Siamo qui allo studio con Alberto Cucciaim Stripolini Metto qua i soldi al mio cenno una birra Cos'è? Soldi per cosa? Per la birra, Flai è qua per andare a prendere birra d'alpachi Ah vanno a prendere birra? Attenzione Allora sei carico, abbiamo fatto i suoni tutto a posto Mettiti di profilo che si vede il naso Va bene? Ok, perfetto Adesso vai nel gabbiotto Ti veniamo a molestare dopo Mi raccomando Stai calmo, stai calmo Gli omnici delle manopole hanno già restito tutto Siamo operativi E' un attimo, sai tra il cuore e il culo è un attimo Prossima Perché io amo col culo e ragiono col cuore Super io, super io ho detto E' un contatto mentale con Valentino Rosso Ciao dai Ti stavo anche sentendo Assolutamente Ciao dai Ero in curva, mi ha fregato di brutti curva Va bene dai Super io è stata più ostica Pensavo fosse più ostica Era quella che mi aveva, infatti quella che ho provato meno è perché ero convinto di non avere problemi Un po' in curva, che gobba c'è, è andato male Va bene dai, pausa 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 di registrazione Siamo arrivati a Metal Dream Uno dei pezzi più orrendi della storia del rock Ma che a modo suo cambierà la storia del rock Merda Una merda da dio Ovvio Finito orora le armoniche e ci apprestiamo a fare la voce Io questo effetto è sempre un po' così, molto Matrix, guarda Ma che cosa dici? Sei controverso? Mi sei drogato? Sei diverso? Sei molto attento a qualche...